La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha sequestrato circa 200 kg di vongole. Nel più ampio alveo delle attività del corpo riconducibili alla Polizia del Mare è stata svolta una articolata attività operativa nello specifico settore dedito al controllo dei prodotti ittici. Complessivamente sono stati sequestrati, come già detto, circa 200 kg di molluschi bivalve irregolarmente detenuti. Le vongole erano in gran parte già confezionate in retine di plastica e occultate abilmente alla vista dei finanzieri, pronte per essere immesse illegalmente in commercio e destinate verosimilmente alla vendita fuori dal circuito ufficiale del mercato ittico nazionale. L'attività illecita era finalizzata all'elusione della normativa in materia sanitaria, con evidenti rischi per la salute dei consumatori ed avrebbe causato danni economici ai vari operatori commerciali dello specifico settore. Il prodotto ittico posto sotto sequestro, per mancanza della relativa tracciabilità, è stato reimmesso in mare, previa certificazione dell'autorità sanitaria veterinaria che ne ha constatato la non idoneità al consumo umano, facendo salvo il ripopolamento marino.